e innanzitutto perché queste bende in italia furono scoperte intorno al 92 io comprai nell'autunno dell'86 il primo guns n roses che vedete con le mie spalle questo è il primo album dei guns n roses sotto quello degli x che vedete gli x poco dopo iniziai a scrutare gli x comprai però appunto appetite for destruction questa è la mia copia originale che comprai da rock and folk nell'autunno del 1986 facevo quarta ginnasio forse già raccontato simpaticamente un facebook e un post di facebook quando in quell'autunno primo anno primo anno di ginnasio quarta ginnasio portare a scuola questo disco dopo averlo comprato il giorno prima un giorno di sciopero proprio di occupazione in quarta ginnasio è una mia compagna posso dirvi una simpatica carina e che ho come amica tuttora in facebook anche se non ci sentiamo molto perché ti passa totalmente tempo quant'altro comunque però era una tipa vivace e attenta ai fanciulli belli e guardo quest'album perché era molto vivace un po diciamo a volte forse anche un po invadente mi strappo quasi di mano questo disco per guardarlo disse cavolo a questi tipi come sono conciati questo era l'album appunto questo appetite for destruction nel retro c'è la foto di tutta la band la prima mitica formazione con easy strade in street radler e questa mia compagna disse miseria che tipa ci sono questi qua due anni dopo un anno forse un anno e mezzo dopo giovanotti faceva quel programma dj television credo e passò uno dei primi brani in uno dei primi video tratti proprio tratto proprio da questo da appetite for distraction e lei se ne innamorò di guns and roses questo perché appunto giovanotti aveva resi mainstream e il successo comunque era